...quel senso anche della speranza, della vicinanza con gli altri. Essere leggeri, delle volte, non vuol dire superficialità, vuol dire in qualche modo dare a questa vita, ogni tanto questa facciata di finestra che ci permette di venire un orizzonte quando invece delle volte ci viene offriscati dal momento della guerra, dal potere oppure di certi luoghi che non sono mai sazi di potere e di egemonia. Quindi devo dire che continuiamo ad essere impegnati come non siamo stati, ma ogni tanto anche voi che dici tu qualche cazzata c'è stata. Io l'ho conosciuto anni 82, in macchina mi... stavo andando in un albergo, e la macchina viene da poco a suonare, ma che cacchio è... Arrivo in albergo, scende lui con un fiasco di vino e tanti suoi agrischi. Il suo vino di vino. È stato di una semplicità, di una bellezza, perché l'ho ascoltato, perché i suoi primi rischi a casa mia li ha portati Romina Paola. E li ho ascoltato con molto interesse. Non mi hai convinto subito, ma quella è la colpa della... Io stavo su un'altra sfonda, però dopo... Ho capito la tua forza, la tua generosità e la grande umanità. E non ne farò male a me. Grazie a un'altra... Scusa, ma non è una polizia, tu... No, non si nasce polizia, non si nasce. Si viene da dove comanda, in un certo qual modo, la tradizione. E noi abbiamo smesso purtroppo di tramandarci, quindi...